Esodisce quest'anno FLU, Festival di Linguaggi Urbani a Savona dal 19 al 28 maggio. FLU è un festival che si compone di più eventi, tre mostre, una alla Galleria del Priama, la Galleria degli Ascensori, un'altra alle Celette e un'ultima nell'atrio della sede della Campanasta, nella Torre del Brandale. Oltre alle mostre, FLU offre una serie di incontri e di seminari, di conferenze distribuite in tutto il territorio della città, tra cui la sede del Nautico, la sede del Comune e la sede di Storia Patria. Il festival nasce grazie alla collaborazione di 18 associazioni che hanno dato loro contributo a livello di idee e di materiale e che hanno permesso la realizzazione di questo evento.